bello a tutti ragazzi e bentornati da luca 7392 ragazzi bentornati sul canale e benvenuti nel quinto episodio del progetto delle sponsorizzazioni dove oggi andremo a sponsorizzare sempre solo un canale ovvero andrei a sponsorizzare il canale di IkeMods questo qua che vedete questo canale di Alessandro che è un mio amico che saluto ciao Ale spero che sarai contento che ti sponsorizzo finalmente dopo tanto tempo hai pazientato ed è arrivato il tuo turno per essere sponsorizzato ragazzi questo canale come potete vedere ha 53 iscritti quindi mi raccomando andate ad iscrivervi al suo canale e supportatelo lascerò il link del suo canale nella descrizione del video quindi se volete iscrivervi al suo canale date un'occhiata alla descrizione del video facciamo arrivare il nostro amico almeno a 60 70 iscritti come potete vedere questo è un canale emergente ragazzi poi inoltre vi ricordo di condividere questo video con i vostri amici sui social network su facebook su twitter e su tutti i social network così da far sapere a tutti di questo progetto delle sponsorizzazioni poi vi ricordo che per essere sponsorizzati basta seguire tre semplici regole essere iscritti al mio canale essere attivi nel mio canale e commentare qui sotto nei commenti con hashtag sponsorizzami e io appena vedrò il vostro commento vi metterò in lista ragazzi inoltre vi ricordo di lasciare almeno 20 like di supporto per questa serie del progetto delle sponsorizzazioni poi ragazzi inoltre vi ricordo di seguirmi anche su tutti i social network su facebook su twitter e su ludomedia lascio tutti i link in descrizione quindi ragazzi se volete seguirmi sui social network e volete iscrivervi al canale di alessandro di aikmods date un'occhiata alla descrizione del video che troverete tutti i link che ho appena detto adesso comunque vi faccio vedere come si chiama il canale che è un nome un po particolare comunque scritto così aikmods si chiama possiamo vedere il banner molto carino bravo alessandro anche l'immagine logo h&m con l'immagine di caveira di rainbow six siege allora ragazzi come potete vedere questo canale porta principalmente video di rainbow six siege a molti video di rainbow six siege vediamo anche il video di una nuova intro di questo canale del di questo ragazzo di alessandro vi faccio vedere un po più giù gli altri video aspettiamo che carica vabbè ci hanno ha caricato perfetto vabbè troviamo comunque video su clash royale rainbow six siege e insomma un video su battlefield 1 come potete vedere clash royale come vi ho detto prima un video su gta online di un anno fa insomma ragazzi mi raccomando iscrivetevi a questo canale che merita un sacco sosteniamolo supportiamolo e come ho detto facciamo arrivare il nostro amico almeno a 60 70 iscritti questo canale porta principalmente video di rainbow six siege come vi ho detto porta anche video come possiamo vedere qua una live di call of duty black ops 3 insomma questo canale è un canale pieno e ricco di contenuti quindi mi raccomando passate da lui andate ad iscrivervi e adesso detto questo ragazzi ci vediamo un minutino di uno dei suoi video aspettiamo che carica il video aspettiamo che carica il video aspettiamo che carica il video c'è quasi partito ok eccolo qua come potete vedere è un video su Rainbow Six Siege ragazzi grazie a tutti ok stoppiamo qua il video del nostro amico torniamo sul suo canale eccoci qua ok allora ragazzi come vi ho detto questo è un canale che ha 53 iscritti è un canale emergente quindi mi raccomando andate ad iscrivervi sosteniamo supportiamolo si chiama EggMods come vi ho detto un nome un po' particolare e ragazzi comunque mi scuso per la qualità del video che è molto scarsa registro con una macchinetta fotografica le sponsorizzazioni però non posso fare altrimenti purtroppo quindi scusatemi però per ora posso fare solo così e ragazzi che dire il video termina qui adesso vi lascio un altro video di Alessandro di EggMods spero che questo video vi sia piaciuto se così è stato vi ricordo come vi ho detto di condividerlo di lasciare like sempre per questa serie del progetto le sponsorizzazioni lasciate un sacco di like almeno 20 like e se volete essere sponsorizzati da me già ve l'ho detto quali sono le regole da seguire e infine iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto poi inoltre vi ricordo che l'appuntamento qui sul mio canale è ogni giorno con Watch Dogs 2 Mafia 3 Ghost Dragon Wildlands e molti altri giochi con un video al giorno ragazzi e ragazzi il video termina qui io come al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia vi ricordo di lasciare like al video condividerlo con i vostri amici sui social network su Facebook, su Twitter e su tutti i social network e poi inoltre vi ricordo di seguirmi anche su tutti i social network su Facebook, su Twitter e su Ludomedia lascio tutti i link in descrizione come vi ho già detto prima e ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul mio canale ogni giorno con un nuovo video ciao ragazzi vi lascio al video di Alessandro buon game a tutti vi lascio al video di Alessandro vi lascio al video di Alessandro ok I was alone, no where to go and no place to call home My only friend was the man in the moon And even sometimes he would go away too Then when I was I closed my eyes I saw a shadow fly in the middle He came to me with the sweetest smile Told me he wanted to talk for a while He said he'd have nice what they call me No Non mi raccomando Sì 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 Sì